Ciao, sono Alex, lui è Renato, del Circo Abusivo, maestro Sputrovic di Valtalazia del Circo Abusivo. Siamo uscendo dal programma, dalla nostra ultima puntata, dove ci hanno segati definitivamente, lasciandoci così liberi di andare ai nostri impegni, ad arare i campi, a zappare le patate, con l'ordine maggiore, assolutamente, comunque, al di là degli scherzi, l'esperienza è stata divertente, suonare dentro un metro per un metro, per me è normale, siamo al circo, siamo abituatissimi, ti giuro, suoniamo su parchi enormi, con idroscalo, valle varie, e anche in parchi piccolissimi, sì, è stato un gioco, in realtà non è proprio tanto il nostro ambiente, non è neanche il nostro tipo di pubblico, quindi è stato quasi meglio essere arrivati ultimi in classifica, perché significa che, ok, la nostra strada è proprio quella, a casa, comunque ci siamo divertiti. Trovate tutte le informazioni sul Circo Abusivo su www.myspace.com slash Circo Abusivo, oppure cliccando su YouTube potete vedere un sacco di nostri video, di vari concerti fatti qua e là, con altri ospiti e amici, tipo i Gogol Bordello, Tonino Carrotone, Tony Puttrino, Piero Rizzi, Cristina D'Avena, è vero? No, no, non ridere, è vero. Ciao! Ciao!